Dopo Guglielmo Stendardo, che già venerdì dovrebbe iniziare ad allenarsi a Pescara con il Placet dell'Atalanta, per il Delfino continuano le grandi manovre di mercato per rafforzare la squadra in vista dell'inizio del campionato e il prossimo 8 gennaio contro la Fiorentina. Servirebbe anche un altro tassello dietro, anche se su Cesare Bovo nelle ultime ore è spuntata forte la concorrenza del Palermo, alle prese anche con una fragilità difensiva che ha in comune con i biancazzurri. Sul torinista in uscita dunque il Pescara probabilmente dovrà battagliare per spuntarla. Sempre dietro Coda e Zupari ci sono sul piede di partenza, mentre Zampano è richiesto sia in Italia, Fiorentina appunto e Sampdoria, che all'estero. Passando alla mediana il Delfino sogna il ritorno di Rolando Mandragora, il ragazzo reduce da un infortunio subito proprio nella parte finale dello scorso campionato è tornato la Juventus e i bianconeri vorrebbero farlo recuperare al 100%, mandandolo sei mesi in una piazza dove potrebbe trovare lo spazio giusto. Pescara, vuoi per i trascorsi recenti del ragazzo, vuoi per la stima di Massimo Oddo, sarebbe una piazza graditissima, ma in questo caso è l'Atalanta la rivale dei biancazzurri, potendo contare sulla carta Giampiero Gasperini, che lo fece esordire in Serie A nella primavera 2015 contro la Juventus con il Genoa. Per questo saranno importanti le diplomazie su entrambi i fronti, col Pescara che non molla lui, così come Marcel Buchel, che il DS Leone conosce bene per averlo avuto nella Virtus Lanciano nella stagione 2013-2014, quando i frentani toccarono anche la vetta della classifica di Serie B con Marco Baroni. La pista è di quelle calde, così come quella che porta l'argentino ex Lazio Christian Ledesma, attualmente in forza ai greci del Panathinaikos. In Grecia, a sponda Paok Salonicco, corteggiato anche Mame Babatiam, anche lui ex Virtus Lanciano. Altro esubero in casa Bergamasca è il Cileno, con doppio passaporto Carlos Carmona, esperto, ma solo due presenze in questo campionato in maglia nera-azzurra. Sarebbe un rinforzo utile per la zona nevralgica del campo. Infine l'attacco, dove un altro ex atalantino, Germán Denis, continua ad essere in pole position, insieme al croato della Sampdoria ante Budimir, che in blu cerchiato è chiuso dalla coppia Murriel-Quagliarella, con quest'ultimo che dovrebbe presto rinnovare il contratto scadenza 2017. In posizione più defilata ci sono Goran Pandev e Alberto Gerardino, con l'Empoli che non vorrebbe rinforzare però una diretta concorrente. Nella gestione degli incastri però, se Tiam via Juve dovesse raggiungere Martuscello in Toscana invece di approdare in Abruzzo, potrebbe chiudere ancora di più lo spazio all'ex attaccante della Nazionale, che a quel punto potrebbe decidere di essere ceduto proprio al Delfino. Grazie.